Buonasera, eccoci in StaiChan, la firma Orle. La nostra attenzione oggi si posa su un artista torinese, abbiamo precedentemente nelle trasmissioni delle fasce orarie precedenti intervistato Luciano Massari, sempre torinese, con un punto di contatto con il professor Massari, oggi ospite l'artista Xel, a quale do benvenuto. Buonasera Xel. Anche perché, anagraficamente, sei una persona matura. Certo, sì. No, devo dire che Torino in questo momento, al di là della tipologia di arte, street art, è una città in fermento, proprio a livello di arte contemporanea in generale. Per quanto riguarda la street art, la scena torinese, credo che comunque sia abbastanza conosciuta, perché propone diversi artisti, molti di questi li conosco, alcuni sono miei amici, che fanno un lavoro validissimo. C'è anche un tessuto piuttosto consolidato di associazioni, gallerie, anche a volte le istituzioni come il comune, stanno favorendo molto lo sviluppo di questo tipo di arte. Tra l'altro Torino, che fino a pochi anni fa era la città della Fiat, sta vivendo un cambiamento notevole. Oggi sta diventando una città associabile subito al mondo della cultura. Si può dire che lo spartiacque siano state le olimpiadi invernali del 2005-2006. Si può dire, sì, assolutamente. Un rinnovamento della città, del tessuto urbano, quantomeno del ring periferico, una città che io adoro personalmente. Alcuni dei nostri presentatori televisivi sono di Torino, quindi più volte sono là a visitare la città. Certo. Quindi un cambiamento, un'attenzione al mondo della cultura e quindi dell'arte. Parliamo delle istituzioni, a questo punto me la servo su un piatto di argento, parliamo proprio dell'arte pubblica, dove tu sei stato coinvolto in numerose iniziative. Sì, assolutamente. È un aspetto della street art, perché se noi pensiamo alla street art, chiaramente se dobbiamo parlare delle origini, è un po' in contrasto, nel senso che le origini della street art sono illegali. Oggi invece, appunto, le istituzioni a Torino, non so, cito qualche mio intervento all'interno dell'assessorato alla cultura della regione Piemonte, ad esempio, che l'assessore precedente era un assessore, Michele Coppola, era un assessore che amava lavorare con i giovani street artist e proporli il Museo di arte urbana, il direttore artistico Edoardo Di Mauro, che è assolutamente molto attento a questo tipo di arte. che appunto al Museo di arte urbana, annualmente, tre, quattro interventi di street artist sono commissionati, praticamente. e altre situazioni di associazioni, oltre che istituzionali. Io ho avuto anche la fortuna di dipingere un palazzo storico a Torino, l'Esterla, una parete di un palazzo storico, che è Palazzo Cisterna, e in questo appunto sono stato un po' spalleggiato dalle istituzioni della provincia, che mi hanno permesso di intervenire su un palazzo sul quale diversamente probabilmente non avrei potuto, non sarei potuto intervenire. Tra l'altro un fenomeno che è nato a tempo addietro all'estero, si può parlare della Germania, dove c'è maggior fermento berlino. Sì, Berlino, sì. Esatto, riconduciamo tutto a Berlino. Abbellimento, ma abbellimento non è corretto, perché abbellimento di un palazzo sa di decorazione. Diciamo interventi che vanno a riqualificare attraverso il valore dell'opera quello che è un edificio, un edificio che poi divene un quartiere riconducibile proprio a quell'opera, quasi un etichetto, un biglietto da visita. Certo, la riqualificazione appunto serve a ridare un po' di dignità a zone della città o a palazzi che sono in uno stato di degrado. In questo la street art sta contribuendo in una maniera forte. È bello da questo punto di vista la funzione dell'arte pubblica perché si integra con, normalmente chi fa l'opera di arte pubblica, di riqualificazione, cerca di non contrastare troppo con il paesaggio circostante. E quindi si entra un po' anche nella dimensione del luogo in cui si lavora. C'è questa ricerca anche, c'è questa introspezione che è un aspetto molto interessante per l'artista che lavora poi sul campo. Interessante. Tra l'altro noi abbiamo avuto un artista che lavorava proprio con il materiale che trovava nel luogo inserito nell'opera. Immagino, tra l'altro ha avuto un servizio su Sky Art. Sì, sì, no, è una cosa che comunque affascina l'artista, no? Sentire il profumo del luogo e entrare un po' a far parte di quel luogo in cui si agisce. E questo è quello che c'è di ufficiale nella street art. Interventi in luoghi pubblici là dove si hanno le autorizzazioni. In realtà vi è talvolta, spesso, quasi sempre, nella street artist che matura un processo suo creativo, una sperimentazione clandestina. A volte, facciamo un distinguo, perché ci sono artisti e talvolta quelli che artisti non possono essere definiti. Ci occupiamo degli artisti. Certo, certo. Ma sai, guarda, qui c'è un discorso molto ampio da fare per uno che arriva da lì e che l'ha vissuta dall'inizio, nel senso che non proprio dall'inizio, perché prima di me, anni 80, c'era già qualcuno che la faceva. Quello che voglio dire è che, diciamo che gli interventi illegali sono la natura della street art, sono l'origine della street art. Anche quello che noi ogni tanto vediamo in giro, le tag, le firme, no? Che ci sentiamo un po' tutti, io no, però a volte si sente, la firma non è arte. Però bisogna tenere conto che molti artisti, ad esempio, sono partiti dalla tag per arrivare a quello che sono oggi. E' chiaro che ancora adesso ci sono alcuni artisti che preferiscono lavorare solamente in maniera clandestina e legale. Magari gli strumenti con i quali si interviene sono un po' cambiati. Non so, penso alla poster art piuttosto che alla sticker art. Lo stesso stencil che negli ultimi anni ha preso piede rispetto a interventi a mano libera di spray. E quindi, in poche parole... Allora, andiamo a vedere quelli che sono i lavori legati all'arte pubblica, tempo alla regia di organizzarsi, andiamo a caso... Ecco, poster art. Perfetto. Questo lavoro classico di poster art è a Torino, in Corso Potenza, ed è un intervento clandestino. È un intervento clandestino, abbiamo beccato, è un'opera di XS. Ascolta, c'è una denuncia di natura politico-sociale nei tuoi lavori? Sì, la mia poetica è un po' incentrata sul discorso politico-sociale, nel senso che mi piace molto osservare le dinamiche moderne che si sviluppano intorno a me e un po' denunciarle. In quel caso avevo rappresentato la figura del re un po' tiranno, no? Il re di spade che difende a tutti i costi il bottino, raffigurando un po' questa metafora della ricchezza che oggi è difesa ad ogni costo, forse ha scapito anche di una povertà che aumenta sempre di più. Sono temi che io tratto con un po' di gioco, ma che hanno un retrogusto un po' amaro, purtroppo. Una forte piacevolezza nell'apparato visivo, un'apparente non complessità nella lettura del tuo lavoro. In realtà vi è anche un po' una sorta di inganno, perché è un lavoro complesso, sia nel messaggio politico-sociale che nella ricerca stessa. Mi piace questo contrasto, di giocare con queste forme a volte morbide. Ecco, qui prendo in giro lo spread, ad esempio in questo intervento di Stiker Art, in vendo, in dialetto napoletano, contro il vicino che continuano a urlarci questa storia dello spread, che fino a poco tempo fa, ad esempio... Era l'incubo giornaliero. Sì, assolutamente, un incubo giornaliero. Vediamo la successiva. Ecco, qui è un gioco che si fa spesso nella street art, quello di intervenire in scene di fumetti famosi, in questo caso dei Peanuts con Snoopy. Una appartenenza generazionale, perché parliamo di Snoopy, quindi degli anni Ottanta. Esattamente, sì, dei Peanuts. Chi era da bambino negli anni Ottanta, quindi chi è nato nei primi anni Settanta, io ero una sorella, mio fratello, hanno dieci anni più di me, che erano legati a Snoopy. Io sono del 78 e mi dice molto meno. Sì, sì, sì. Beh, sì, in realtà è bello, appunto, mi piaceva più la parte estetica di Snoopy, che si nascondeva sopra la casetta e il mio pulcino che sbuca da fuori, che è un po' l'icona del mio lavoro. E, come dire, lui impaurito si nasconde. È un gioco, spesso si fa nella street art, anche questa cosa di giocare con personaggi dei fumetti e creare una complicità. Vediamo la successiva. Questo è sempre sticker art per le strade di Torino, sono delle finestre, e c'è un personaggio sotto che chiama degli ipotetici abitanti sopra per chiedere se sono in casa. E mi piace anche qui, insomma, giocare con questa, abitare, i pali della luce che spesso sono così tristi, pieni di adesivi staccati, anche il mio adesso. Ricordi spesso il pulcino? Il pulcino, sì, diciamo che quando ho iniziato a produrre Acrylici su tela è stato il primo personaggio che ho tirato fuori. L'ho estrapolato un po' da un tipo di lettering che utilizzavo quando facevo graffiti, che è il throw up o bubble. Staccando un pezzo di una lettera è venuto fuori questo personaggio un po' gommoso, al quale poi ho affidato una poetica, ovvero quello di aspettare col becco aperto che cada qualcosa che in realtà non arriva mai. A sottolineare un po' la condizione, soprattutto in cui si trovano i giovani oggi in Italia, di perenne attesa, al di là poi della buona volontà che ogni persona ci mette per ricercare e per incorrere il proprio sogno, c'è questa attesa perenne, questa precarietà continua che ti fa vivere sempre in una dimensione che sembra... Mezzo tono. Esattamente. E questo in Italia, stavamo parlando prima, ho intervistato Chloe Dall'Olio, che lavorava per la Sachi Gallery e ci illustrava quello che è uno scenario completamente differente all'estero, in Inghilterra, in realtà a Sachi, e la meritocrazia, quella che manca in Italia. Qui in Italia c'è questa tendenza a una politica, si dice, clientelare, se non sbaglio termine, che è dannosa, comunque continuiamo a vedermi i frutti di questo tipo di mentalità. Io ho avuto esperienze all'estero, vabbè, sono stato in Svizzera, ho svolto due mostre personali, una nel 2011 e una nel 2013, a Ginevra, chiaramente è anche una parte d'Europa quella privilegiata, nel senso che c'è un benessere che si respira. La cassa foto d'Europa. Esattamente, in linea di massima, però, se devo confrontare l'Italia a posti nei quali sono stato anche solo, per esempio, come esperienza di vita, viaggiando, chiaramente siamo indietro su molte cose. Io amo questo paese, però c'è da dire che su tante cose c'è da lavorare parecchio e purtroppo passa il tempo, ma... Sembra che qualcosa non scatti, non ci sia... Non scatta mai quella... Neanche un'evoluzione, ma un movimento. Quella scossa che ci faccia un po' cambiare forse mentalità un po' a tutti, senza escludere nessuno, neanche io mi metto in mezzo, se vogliamo, però credo sia una questione un po' più di mentalità. E tu l'estero l'hai cercato in Spagna, anno 2007? Nel 2007 io ho avuto un'esperienza di vita in Spagna, ho lavorato in uno studio di grafiche e di illustrazioni, una formazione grafica e, beh, chiaramente vivere all'estero è una cosa che... Poi gli anni erugenti della Spagna. Assolutamente, era il paese, penso, che stava meglio. Più promettente d'Europa. Sì, in quel momento sì. Anche qui ci sarebbe da fare un ragionamento sul tipo di momento che stiamo vivendo, altrenante un paese che sta bene, di colpo diventa quello che sta peggio. Però, chiaramente, vivere all'estero ti dà la possibilità di incontrare culture diverse, persone che provengono da posti differenti e quindi di allargare le proprie vedute, di avere la possibilità di confrontarsi al meglio, di capire come funziona il più possibile il mondo nella sua totalità. È una cosa che consiglio, sinceramente. È un pezzo di vita all'estero, al di là della professione che si svolge a livello umano. Un trasferimento all'estero, l'hai valutato? Recente, Berlino, avevamo un collegamento telefonico con Allessenso, tempo fa, proprio da Berlino. Non vorrei lodare troppo la mia città in questo... E lodare troppo là? La mia città, Torino. Ma in realtà in questo momento Torino, non posso dire che sia... Non so se sia a livello di Berlino o meno, ma comunque da questo punto di vista è molto viva. Beh, artissima mi viene in mente. Assolutamente. Ho trovato una dimensione che per adesso mi cazza a pennello. Chiaramente, magari per il futuro chissà. Vediamo le opere successive riferibili alla pittura su tela, quindi che va a contentare, che va a soddisfare, preferisco quelle che sono necessità da parte di collezionisti, passando attraverso le gallerie. C'è un vincolo, il vincolo della committenza, il vincolo di una particolare richiesta, non voglio dire neanche nicchia di mercato. Ma io sono abbastanza libero quando realizzo un'opera e devo dire che fino ad oggi non ho avuto particolari richieste o restrizioni nel mio lavoro. Ecco, questo ad esempio è uno scorcio di un'opera su tela che ho realizzato per il PRI Italia, per la RAI praticamente, molto fresca, che abbiamo ufficializzato proprio qualche giorno fa, che racconta la storia della street art a Torino. È un'opera che poi è inserita nell'home page del sito, per cui bisognerà poi scorrere orizzontalmente per scoprire i vari contributi video attraverso anche delle icone cliccabili. Anche qui ho avuto abbastanza campo libero, nel senso loro mi hanno commissionato un qualcosa che rappresentasse la città di Torino. Io ho eseguito due o tre bozze della mia idea e non ho avuto particolari restrizioni, cioè abbastanza libertà, almeno per quello che mi riguarda. Per quanto riguarda soprattutto le opere su tela, è chiaro che quando si interviene per strada bisogna avere un po' più di attenzione, perché il messaggio, l'opera, si impone a più persone, anche bambini, per cui bisogna avere un'occhio. Una giusta osservazione. Successiva, ok. C'è qualcosa di ossessivo, una ripetizione? Sì, mi piace molto giocare sul fatto dell'urbanizzazione, elementi urbani, casette, palazzi, strade, ciminiere di fabbriche da cui non esce più fumo. In questo caso, e questo è uno dei miei ultimi lavori, anche i colori sono un po' differenti dai soliti che utilizzo, sono un po' più pastello. E questa è una commissione, ad esempio, da parte di un collezionista, infatti il titolo di quest'opera è Mesopotamia. Ed è partito da questa commissione di un collezionista che ha voluto che io rappresentassi quella parte, da quale lui proviene, e rappresentassi appunto la bellezza, ma anche qualcosa che sporcava la bellezza di questa civiltà. Il quadro si intitola Mesopotamia, Civiltà perduta. E appunto la bellezza dei colori, del paesaggio si scontra con queste bombe. Sai che non le ho notate subito? Incastrate. Sono discrete. Esatto, esatto, perché non ho voluto rovinare l'apparato in generale. E queste macchioline nere, che sporcano un po', che stanno appunto a rappresentare... Mi fai notare tu adesso, perché anche quelle non le avevo notate. Il petrolio. Causa di praticamente ogni guerra, quasi. 99-90% della guerra sul pianeta di conflitti. Vediamo la successiva. Questo è un lavoro assolutamente, totalmente... Sai che ambiguo? ...sprai. Sporco, completamente diverso da tutti gli altri. Ed è un lavoro che, devo dire, adesso non vorrei sembrare poco modesto, però è piaciuto molto, proprio per questa sua autenticità forse. Da vicino è ancora più sporco, più grezzo, più vissuto. È un lavoro che ho portato nell'ultima personale che ho fatto alla POU, Alessandro Riccardi di Torino, a maggio, ho ottenuto una personale lì, che è andata bene. E l'ho portato per diversificare un po' rispetto al resto dei lavori, che sono quelli più puliti, ad acrilico, che anche il mio pubblico è abituato a vedere. Stavo dicendo ambiguo, voglio spiegare agli spettatori, perché è forse condizionato dall'opera precedente. Sì, un pulcino, ma sembrava anche una bomba conficcata nel terreno, una parte che esce... Niente interpretazione, andiamo oltre, andiamo oltre. Effettivamente sì. Ecco, questo è un altro mio classico, se vogliamo, questo fatto di rappresentare degli agglomerati urbani con dei camini che spuntano fuori, da cui non esce fumo, indicativi del momento, e questo profilo bianco al tratto, il profilo di una città, e queste colature artificiali che non sono prodotte da una colatura del colore, ma è disegnata da me. Che dimensioni hanno? Questo è un 50x50, quello di prima era un 120x120, Mesopotamia invece era un 100x100. E fortunatamente sono tutti lavori che al momento appartengono a collezioni private. Si è stato attenzionato dalla critica di Edoardo Di Mauro, tra l'altro io erroneamente prima l'ho legato al nome di Luciano Massari, al Teo Gallino. Sì, Teo Gallino. Questa precisazione, una critica estremamente lusinghiera, tra l'altro ti ha coinvolto, tu mi dicevi, in un progetto di arte pubblica. Sì, lui essendo, beh, Di Mauro è docente dell'Accademia Albertina, direttore artistico del Museo d'Arte Urbana, per cui mi ha commissionato diversi lavori. Nel 2012, in una piazza intera, piazza dell'esorgimento, dipinto tre torrette. Vediamo quella che è la, dunque, arte pubblica, l'abbiamo vista la cartella, è presente quell'opera? Sì, ci sono tutte. Gentilmente, regia, arte pubblica. Questo è uno, questo è il rifugio antiaereo, l'ingresso del rifugio antiaereo in piazza del risorgimento. È un'opera, questo è il centro di cultura contemporanea in Gia San Donato, vicino. Questo è sempre per il Museo d'Arte Urbana, però è un'opera di riqualificazione in un condominio, che ho effettuato. Questa è un'altra foto, sempre. Ecco, questa è la parte, l'altro lato del rifugio antiaereo, in piazza del risorgimento per il Museo d'Arte Urbana. Questo è il Palazzo Cisterna. Ecco. Un'opera che è in contrasto con il palazzo, con il resto del palazzo. Bellissimo, l'intervento. Sì, via Carlo Alberto, nel cuore della città, questo. Questa è il piazza del risorgimento, la seconda torretta di ingresso al parcheggio sotterraneo. Questo è sempre un altro punto di vista della stessa opera. Questa è la terza torretta, ormai chiamata Torretta Rossa, dopo questo mi intervento. Torretta Xela. Sì, Torretta Xela. E questo purtroppo non c'è più. Bella. Perché non c'è più? E questo l'hanno rimosso perché il chiosco era abusivo, non lo sapevamo. E quindi abusiva anche l'opera. Questo è un live painting, l'ho fatto dal vivo in un'ora e mezza il 19 gennaio 2013, un intervento spray. No. Come si può vedere c'era anche della neve. Sì. E però è andato perduto, purtroppo. Che peccato. O magari ce l'ha preso qualcuno in casa. Magari in qualche casa, sì, era il proprietario del chiosco. Sì, va bene, dai. Quelli che sono, mi accennavi prima ad un'importante novità. Tra l'altro sei conteso da diverse realtà per interviste in questo periodo. Siamo riusciti ad acchiapparti al volo. Chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro ti ringrazio dello sforzo che hai fatto per venire da Torino qui. È un onore nel senso che... Sei riuscito a incastrare molti impegni. Più che altro era proprio una questione di organizzazione. Diciamo che sì, io parteciperò alla conferenza del PRI Italia il 18, firmerò l'opera che ho realizzato in diretta durante la conferenza stampa. E quindi è un impegno che praticamente mi ha occupato per l'intero... Quasi per l'intero estate e finalmente siamo arrivati al dunque. È il momento di, diciamo così, raccogliere le soddisfazioni. Mi è arrivata una domanda dal nostro sito Inter, ma in realtà hai già risposto in apertura. Cioè cosa ne pensi della riqualificazione urbana attraverso la street art? Sì. Abbiamo già affrontato su Berlino, Torino, quelle che sono... Sì, noi... Siamo un pubblico curioso. Sì, no, per fortuna, meno male. No, direi che è un aspetto interessante, direi che è un aspetto interessante. Ci siamo abituati un po' gradatamente, perché comunque, ripeto, io sono nato in un momento nel quale come writer, diciamo, ho iniziato come writer, per cui non c'era questa cultura del chiedere il muro e andarlo a dipingere. Era un po' selvaggia la situazione. Adesso, per fortuna, c'è questa possibilità. In Italia all'estero, quali nomi, grandi nomi, magari anche quelli non conosciuti? Non ti dico che ti abbia un condizionato, ma che spesso ti frullano nel pensiero? Guarda, a me hanno condizionato tantissimo i primi artisti che ho conosciuto da ragazzino sui libri tipo, non so, Subway Art o Spryken Art di graffiti. Quindi, non so, Sin, Futura 2000, Lady Pink, non so, Kel, tutto quel filone di writing puro che ha devastato New York negli anni Ottanta e in quell'epoca particolare. Poi, dopo, sì, ci sono una serie di artisti molto validi, lo stesso Bansky, super citato, è un artista che apprezzo per l'impatto delle sue opere. Blu? Blu ha anche, caspita, un orgoglio italiano lui, no, no, cavolo, è tra i dieci, al di là delle classifiche, comunque, mi piace molto il messaggio che, ecco, una cosa importante che valuto oggi, ad esempio, negli artisti, personalmente, una cosa che mi affascina è il messaggio che vogliono comunicare. Al di là dell'aspetto estetico, visivo, della tecnica, che comunque cattura ed è affascinante. Però il messaggio, per quanto riguarda il mio gusto personale, è qualcosa che apprezzo sempre in maniera maggiore rispetto all'estetica e alla tecnica. Noi abbiamo lavorato a lungo con Fly Cat, che è stato allievo di Ramezzi, e saprà, insomma, tutta quella che l'ha esattato, una storia veramente straordinaria. Va bene, credo che siamo in conclusione di questa intervista, tanto ancora ci sarebbe stato da dire, chissà, magari in futuro, magari proprio a Torino con la nostra truppa, poter riprendere quelli che saranno i tuoi futuri interventi. Ringrazio Psel, una breve pausa, una breve interruzione e poi nuovamente su Style Channel. Buonasera. Buonasera.